In Emerson, promuoviamo l'innovazione volta a minimizzare i tempi di fermo non pianificati e a semplificare e ridurre la manutenzione ordinaria. I trasduttori Rosemount T200 sono progettati per l'estrazione sicura sotto pressione senza strumenti speciali, eliminando la necessità di depressurizzare la linea e quindi i tempi di fermo operativi. Questa soluzione richiede un solo tecnico e si esegue senza una formazione specifica e senza il rischio di emissioni a effetto serra. L'esclusiva capsula intelligente, non bagnata, è universale per molti modelli e riduce parti e manutenzione con la custodia in titanio idonea alla retrofit sui dispositivi di misura esistenti sul campo. La custodia in titanio isola il trasduttore dal processo per assicurare massime prestazioni in ambienti umidi, acidi e corrosivi. I robusti trasduttori Rosemount T200 ottimizzano le operazioni sul campo e le attività di manutenzione. Per ulteriori informazioni visita www.emerson.com slash Rosemount Ultrasonic.